Ciao a tutti ragazzi, oggi vi svelo un segreto su come superare ogni record del gioco del dinosauro. Allora, innanzitutto dovete partire. Andate con il tasto destro sull'ispezione, andate su console e scrivete runner instant speed, quelli troppo grandi non ve li fa fare, però fino al 100.000 mi sembra di sì, 10.000 scusate, premete invio, guardate, visto? Semplice, è un modo molto semplice per superare il record, poi è vero, non mori più, non mori più, però comunque io sono morto a 72.131, poi non so neanche se so quelli numeri perché quando arrivi in tot numero ti ritorno indietro, non ti fa continuare, o almeno non li fa continuare, ma devi morire per vedere se tutto lo fa fare. Ragazzi, se vi è piaciuto questo tutorial, lasciate un like, iscrivetevi e al prossimo video. Ciao!